VINCE! Scendi! Tutto bene? Cerco la professoressa a bottone. Sono io. Ah. Prima! Mi piace. Sei una donna diversa, coraggiosa, non sai banale. Betty è sposato. Non sarà mai tua. Lo so. E va bene così. Ho capito, però non devi cazzare con me. E io non sono a tua disposizione. Io voglio stare bene quanto te. Invece sai qual è la verità? Quella che impari solo quando diventi padre. Perché non cambi. Hai le stesse paure, hai gli stessi difetti. Proprio di te mi dovevo innamorare.